ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video dei grattevinci e sì ho preso il nuovo grattevinci che non ho mai preso diciamo come grattevinci per grattare ho preso lo sped cash credo che si dice così cash comunque questo l'ho visto se non sbaglio nel video di di mirella che io seguo sempre anche lei fa i video dei grattevinci mi raccomando il suo canale ricette risate in pochi minuti per cui se ancora non se non la seguite andate a seguirla scusate ma c'è il mio cane che fa rumore dorme fa di tutto di più io poi non riesco a concentrarmi e mi fa casino in sottofondo per cui credo che video l'ho visto da lei che ha preso questo grattevinci però lei ha preso quello da 10 euro che è più grande io ho preso quello da 5 perché calcolate che quando io faccio due video al mese non spendo mai 10 euro solo un grattevinci ma prendo 10 euro due grattevinci per fare due video al mese per cui ho visto il suo video mi è piaciuto il grattevinci ho detto vabbè proviamo a vedere questo da 5 euro e niente dato che loro diciamo che hanno fatto vedere come si giocava eccetera per cui il video mi è piaciuto molto quello che hanno fatto loro e allora ho deciso di prenderlo detto questo mi raccomando prima di iniziare questo video iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al canale al canale di ricette risate in pochi minuti che fa anche lei questi video e non so quante volte lo sto ripetendo e e se volete seguitemi su instagram che tanto adesso vi farò vedere anche come si usa l'applicazione dei grattevinci così almeno ve la spiego meglio allora vediamo se questa volta vinciamo di più o vinciamo come l'altro video che abbiamo vinto una cifra un po' piccolina però però almeno abbiamo vinto qualcosa detto questo vediamo e iniziamo il video allora proviamo a vedere i numeri vincenti vediamo 36 è un po difficile da grattare perché sono sulle mie gambe comunque 13 40 36 scusate 34 e 19 allora vediamo i nostri numeri adesso non so qua non riuscivo a grattare infatti è scomodissimo grattare così aspettate proviamo così sul computer perché se no allora 20 vediamo se abbiamo il 20 non c'è il 20 poi 43 la bella cifra è altissima magari vincere così tanti soldi poi non c'è il 40 abbiamo il 40 e quanto abbiamo vinto 5 euro è la prima volta che vinco 5 euro vabbè ho recuperato i 5 euro dei grattevinci poi qua abbiamo il 21 che non ce l'abbiamo il 23 che non ce l'abbiamo e questo non è niente iniziamo direi che questo grattevinci mi ha portato fortuna proviamo il 2 è difficile grattare però allora il 2 per abbiamo un 12 27 cioè scusate ma dato che sono una posizione un po brutta è difficile grattare per cui comunque 27 12 non ce l'abbiamo il 15 non ce l'abbiamo 42 neanche e neanche il 46 bene vediamo il 5 per 38 abbiamo il 36 26 niente 17 niente e per finire 35 ma abbiamo il 36 che sfiga potevamo vincere anche di più vediamo sotto niente non riesco più a grattarlo anche perché l'ho rovinato e la prossima volta quando faccio questi video mi metto su in un tavolo grande perché non riesco a grattare così almeno spero questi di non rovinarli ma c'è un cambio cambio moneta allora scusate ma alla fine ho scoperto che il grattevinci è difettato perché i tre simboli che vedete qui sotto io adesso l'ho rovinati che sono questi non riuscivo a grattarli e dovrebbe essere che tu gratti ed esce il simbolo infatti dietro c'è scritto se i tuoi numeri trovi il simbolo i soldi la monetina o il fulmine vinci praticamente la cifra che c'è scritto che è una di queste tre ho provato a grattare ma ho rovinato il grattevinci vabbè l'importante è che si vede i 5 euro che abbiamo vinto però sono un po' sono rimasta perché alla fine ho grattato sotto ma niente ho rovinato il grattevinci e sono rimasta un po' così anche perché c'è scritto se trovi i simboli ne so denaro moneta o lampo trovi c'è vinci quella cifra 200 euro 100 euro 50 vabbè è andata così comunque vabbè meglio di niente perché 5 euro abbiamo vinto 5 euro adesso vi faccio vedere che noi abbiamo vinto 5 euro con l'applicazione cambio però telefono perché io ce l'ho su questo telefono e non sull'altro comunque adesso vi faccio vedere vi faccio vedere l'applicazione come si usa questa volta giusta allora questa è l'applicazione my lotteries voi ci cliccate sopra questa è l'applicazione qui trovate tutte le cose per giocare ad esempio 10 all'8 eccetera se voi andate su verifica vincite che è qua sotto voi ci cliccate vi esce diciamo questa schermata dove voi con il con il il biglietto dei grattevinci ci dovete appoggiare sotto dove c'è la barre e vi esce congratulazione hai vinto 5 euro l'altra volta non andava questa volta abbiamo grattato bene il codice a barre che va grattato bene come dicevo nell'altro video e ovviamente vi dice non hai vinto oppure congratulazione hai vinto 5 euro noi con questo bigliettino qua abbiamo vinto 5 euro l'applicazione è facile da usare come vi ho già detto nell'altro video e niente poi se volete provare un altro biglietto basta fare verifica un altro biglietto io adesso vi faccio vedere i biglietti che ho ancora ecco ho registrato nell'altro video che voi avete visto ad esempio questo che è la doppia sfida voi ci appoggiate sopra e vi dice il biglietto non è vincente perché questo era il biglietto perdente che noi non abbiamo vinto se no l'altro grattevinci che è questo qua 7 e mezzo sempre la stessa cosa ci appoggiate ci appoggiate il biglietto e vi dice congratulazione hai vinto 3 euro per cui io invece di spendere 13 euro ho recuperato 8 euro che non è male perché 8 euro meglio di niente meglio recuperare qualcosa che non recuperare niente questa è l'applicazione che io uso sempre quando sono curiosa di diciamo quando prendo i grattivinci io sono curiosa sempre gratto la sotto dove c'è il codice a barre così a meno con l'applicazione so se vinco o se perdo prima di registrare i video lo so che deve essere una sorpresa ma tanto non vi svelo a voi quando registro il video se ho vinto o se ho perdo se ho perso ma so solo io se vinco in poche parole e niente questo è il risultato scusate se vi ho fatto vedere gli altri bigliettini ma calcolate che questa è l'applicazione che funziona così e quella che io ho registrato ovviamente l'applicazione è dell'iPhone dell'iPhone per cui su Android se non sbaglio avete un'altra applicazione diversa dove mi ha fatto vedere un ragazzo che me l'ha inviata su Instagram in privato mi ha fatto vedere lui con Android che ha un'altra applicazione diversa però calcolate che è sempre quella non è che cambia molto e niente questo è il risultato abbiamo recuperato 8 euro niente male e con questi 8 euro poi la prossima volta che sarà a maggio vi farò vedere giustamente gli altri grattivinci nuovi con questo io chiudo il video non so quanto è durato scusate se è durato tanto noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando vi aspetto sul mio canale e su Instagram io vi saluto ciao ciao